Cinque punti nelle ultime dodici partite, tre gol fatti da fine novembre a oggi, ultimo posto a meno due dalla Viterbese e meno sei dalla terz'ultima posizione. Sono i numeri che inchiodano la Fidelisandria in coda al girone C di Serie C dopo 27 giornate di campionato. Lo 0-0 contro il Pescara ha permesso di mettere alle spalle il fragoroso K.O. di Catanzaro, ma non ha garantito il cambio di passo necessario per confidare nella salvezza. Nella gestione affidata a Bruno Trocini, avviata meno di un mese fa e passata per la rivoluzione tecnica dettata dal calciomercato, sono arrivati tre pareggi e due K.O. Media punti di 0,6 a partita, più bassa dello 0,81 in 11 gare con Diao Dudu alla guida e vicina allo 0,63 dell'Era Cudini. Pur cambiando il manico, il passo della Fidelis non ha subito variazioni significative. C'è però da registrare un ritorno al passato. Contro il Pescara si è rivisto il 4-3-3 di inizio stagione. I ragazzi si trovano proprio agio per caratteristiche dei giocatori rosa e per quelli che sono arrivati probabilmente vestito più adatto. Ci abbiamo lavorato tre o quattro giorni, i ragazzi l'hanno fatto per gran parte del campionato, quindi nessuna novità in questo senso. Hanno fatto, secondo me, da puntista tattico, non hanno sofferto il cambio di sistema. Quella di domenica prossima sa di tappa cruciale per la stagione della Fidelis, trasferta a Messina sul campo della terz'ultima in classifica che nel 2023 ha decisamente cambiato passo con 14 punti in 7 uscite ufficiali. È una partita sicuramente per noi decisiva, ne siamo consapevoli, è un momento decisivo della stagione, lo sappiamo. Andiamo lì a Messina, consci del peso della gara e proveremo con tutte le nostre forze a vincere la partita. In Sicilia non ci sarà Ciotti, espulso per doppia munizione contro il Pescara e appiedato dal giudice sportivo. Quel giudice sportivo che ha anche combinato una multa che fa discutere 2.500 euro per cori contro la tifoseria ospite. Evidentemente non hanno sentito i tanti cori della tifoseria del Pescara contro la nostra città sino alla loro uscita dall'impianto, sottolinea la D della Fidelis, Pietro Lamorte. Pagheremo, ma le regole vanno rispettate da tutti. I commissari di campo, giunti al Dei Ulivi, prosegue, avranno udito da un solo orecchio, probabilmente a causa delle molteplici bombe carta fatte esplodere dai tifosi ospiti domenica scorsa. Allora arrivo all'esterno dello stadio.